Allora poi andiamo al 14esimo agosto, premia il direttore Angelo Aiello, a The Lardin School, la mezza! E' una giovanissima, ma con un grosso progetto. Quindi facciamo un grosissimo applauso a questi bambini. Comunque hanno una bellissima vita, e l'anno prossimo mi confermano l'avuzione. Un grossissimo applauso perché è una società nata praticamente lo scorso anno. Allora poi andiamo al 14esimo agosto, un grosso applauso. Abbiamo avanti con il 12esimo agosto, premia il direttore Natalino. Al 13esimo agosto abbiamo l'SC Rappella. Grazie. 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 Un grosso applauso anche all'SC Rappella. Grazie. Grazie a tutti.